Salve a tutti ragazzi e benvenuti su Elite Gaming, benvenuti su Destiny 2 in questo nuovo video analisi in cui andrò ad analizzare le note della patch 1.1.4. Il grande aggiornamento previsto per marzo è rilasciato il 27, quindi questo martedì, e ridefinito il Go Fast Update. Dunque senza perderci troppe chiacchiere iniziamo subito ad analizzare i diversi punti. Partiamo dagli assalti, come vi ho già spiegato anche qualche giorno fa, verranno introdotte le ricompense uniche per i call alla notte, e naturalmente più punti si faranno e maggiore sarà la possibilità di ottenerle. Poi sempre parlando degli assalti, riduzione della ripetizione degli assalti, nella scheda delle sfide la penalità massima di potere adesso sarà 50 e non più 40 come prima, e infine alcuni bug fix vari. Poi altri cambiamenti abbastanza generici, riduzione dei duplicati esotici, risolto un problema per il quale alcuni emblemi non mostravano correttamente le statistiche. L'ente di Promethe ora appare correttamente nella collezione di armi esotiche per i giocatori che l'hanno acquistata da Xur senza possedere il DLC, ridotto a un secondo il tempo di interazione quando si attivano le pattuglie e risolto un problema per il quale applicare o vedere l'anteprima di uno shader riportava l'inventario a inizio pagina. Messi da parte a questi punti, passiamo finalmente ai bilanciamenti. Iniziando dai fucili impulsi, aumentati del 16% i danni nel PVE. Aumentata la cadenza di fuoco per i fucile impulsi adattivi e ad alto impatto. Tralascio i valori numerici esatti e le percentuali per non diventare troppo noioso, comunque in descrizione per quelli più curiosi metterò le note della patch complete in italiano. Aumentati i danni di base per i fucile impulsi adattivi ad alto impatto e a fuoco rapido, quindi presumo tutte le categorie esistenti. Aumentato il moltiplicatore dei danni di precisione per i fucile impulsi leggeri e diminuito invece leggermente il moltiplicatore di precisione per tutti i fucile impulsi. Questi ultimi due punti potrebbero sembrare in contrasto tra loro, ma di fatto serve soltanto per il bilanciare tutte le categorie. I danni comunque, soprattutto quelli al corpo, risulteranno aumentati. Poi fucili da ricognizione, per tutte le categorie è aumentato i danni nel PVE ed in più per quelli ad alto impatto ha aumentato anche leggermente il danno di base. Nei cannoni portatili troviamo il danno aumentato in generale, danni di precisione aumentati e precisione dei colpi è aumentata quando si spara sia mirando che non, quando si gioca con un controller, quindi su console o su PC quando appunto si usa un pad. Proseguendo, armi da supporto aumentati danni nel PVE, sia mirando che non, aumentata la precisione dei colpi e ridotto leggermente il cono di fuoco, aumentata la capienza delle munizioni di riserva, aumentato di un metro all'inizio del decadimento del danno e aumentato alla velocità quando si mira. Nelle mitragliette troviamo un aumento del danno nel PVE, ottiche impostate a 1.3 di zoom, quindi un leggero aumento perché se non mi sbaglio prima era 1.2 e aumentata la capienza delle munizioni di riserva. Nei fucili a fusione lineari troviamo un notevole aumento dei danni nel PVE, aumentata la mira assistita e diminuito il moltiplicatore del sussulto, il flince. Nei fucili a pompa un discreto aumento dei danni nel PVE, aumentata la capienza delle munizioni di riserva e aumentata la mira assistita per i fucili a pompa Suros, quelli a colpo singolo per intenderci. Nei fucili di precisione troviamo un aumento dei danni nel PVE, un aumento dei danni di precisione, un aumento della mira assistita e un aumento della capienza delle munizioni di riserva, quindi in generale un buffo a 360 gradi. Poi nei lanciagranate troviamo un aumento dell'area d'impatto, di circa mezzo metro in quelli col caricatore a tamburo e di un metro in quelli a colpo singolo, come il leone ruggente per esempio. Ed infine nei fucili automatici diminuita la gittata per tutti i fucili e diminuita anche la mira assistita per tutti quelli precisi, quindi ad esempio il dono di Uriel. Quanto alle armi singole l'unica modificata sarà il mini strumento mida. Diminuite leggermente le ottiche per metterlo al pari delle altre mitragliette e ora i due perk leggerezza non si sovrapporranno più. Inoltre aggiustata la velocità di movimento per metterlo in pari al multi strumento mida. Passando dunque ai perk, migliorati i danni nel PVE dei seguenti perk, riserva impatto elevato, caricatore assassino e furia. Quest'ultimo inoltre avrà anche la durata estesa di mezzo secondo. Poi livellula, aumentati i danni di base inflitti, aumentati i danni aggiuntivi contro i nemici e aggiornati gli effetti visivi, adesso dovrebbe tornare a essere molto più evidente un po' come era già in Destiny 1. Poi nei proiettili esplosivi, ridotto il moltiplicatore dei danni inflitti dai proiettili nel PVE ma aumentato il danno di base, per compensare appunto la riduzione. Profanatombe ora ricaricherà il 50% del caricatore invece che il 30 e carica temporizzata avrà ora 50% danni esplosivi e 45 diretti. Passiamo dunque all'abilità dei nostri guardiani, ridotto il tempo di recupero della super da 6 minuti e 45 e aumentato da 2 a 10 il valore di ogni incremento di mobilità. Per quanto riguarda il cacciatore la schivata rimane invariata ma l'invisibilità è derivante sia dalla schivata che dal fumogeno non interferirà più con la mira assistita, questo soltanto nel PVP. Inoltre la durata dell'invisibilità è stata nel complesso aumentata di un secondo. Inoltre è aumentata la velocità di movimento per tutte le super corpo a corpo, quindi pugno della distruzione, scudo della sentinella e bastone ad arco. Con tutte queste super la velocità di scatto sarà aumentata e i personaggi scatteranno automaticamente muovendosi in avanti e aumentata l'accelerazione dei movimenti in modo da raggiungere la velocità massima quasi all'istante. Da qui come potrete ben capire il go fast update. Analizzando invece le classi più nel dettaglio, al titano ha aumentata generalmente la velocità di movimento e l'accelerazione con elevazione a catapulte ed elevazione calibrata e aumentata a 4 metri e mezzo la gettata degli attacchi senza bersaglio effettuati con spallata caricata. Anche nel cacciatore alla sottoclasse bastone ad arco ha aumentata complessivamente la velocità delle animazioni e aumentata anche l'area dell'effetto degli attacchi di bastone ad arco. Arrivando infine allo stregone, modificata sensibilmente la planata in tutte e tre le sue varianti e nel complesso si troverà con una mobilità notevolmente maggiore. Quanto alle sottoclasse invece l'unica modificata sarà l'ama dell'alba, diminuito il costo di energia usato per lanciare le spade quando alba nascente attiva, aumentata l'estensione della super ottenuta dal perk fiamme eternali, il beneficio ottenuto dal corpo corpo assalto lesto ora rimuove le penalità di precisione in volo quando al perk è attivo, diminuito da 10 a 6 secondi il tempo di recupero di slancio di Icaro e aumentata l'energia delle granate del corpo corpo ottenuta dal perk alta temperatura dopo ogni uccisione. Infine per quanto riguarda le mod, aumentato del 16% il tasso di rigenerazione è fornito, ad esempio l'energia bonus delle granate, del corpo corpo o dell'abilità di classe, il tutto cumulabile fino a tre volte per un totale di un bonus complessivo del 50%. Arriviamo infine a parlare del crogiolo. Innanzitutto è stata introdotta la playlist settimanale in evidenza che alternerà Rissa, Pandemonio e Stendardo di Ferro. È stata introdotta una riduzione delle ripetizioni nel crogiolo, si intende naturalmente delle mappe, è stata introdotta la penalità d'abbandono per le partite competitive di cui vi ho parlato qualche giorno fa e aggiunte barriere invisibili a zona di morte su diverse mappe per tenere i giocatori nello spazio giocabile. Quanto alle singole modalità tanti cambiamenti minori o che già conoscevamo perché annunciate a priori come ad esempio Stendardo di Ferro che tornerà a essere 6v6. Anche qui per non annoiarvi non starò ad elencarveli tutti, il link della patch notes in italiano la trovate comunque in descrizione. Gli unici due punti davvero rilevanti riguardano le munizioni pesanti che spawneranno più spesso e che quando un giocatore dopo averle raccolte morirà le lascerà cadere sul suo cadavere e gli altri giocatori, alleati o avversari potranno ottenerle anche se dovranno raccoglierle esattamente come quelle che spawnano a muro, quindi interagendo con il pacchetto di munizioni. E qui apro una parentesi, nella patch note c'è scritto 25 secondi di interazione ma presumo sia un errore, dovrebbe essere 2 secondi e mezzo. E il secondo punto è che in tutte le modalità competitive sparirà al radar, esattamente come era stato annunciato per le prove dei 9. Scelta a mio avviso non delle migliori, avrei preferito un'estrema riduzione soltanto a qualche metro ma toglierlo completamente mi sembra abbastanza eccessivo. Prima di esprimermi per bene però sono curioso di provarlo. Ultimissimo punto di questa patch note riguarda il numero di munizioni pesanti fornite in base all'arma e in base alla categoria e sempre nel solito post che trovate in descrizione troverete un lunghissimo elenco con tutte le categorie di armi e le diverse esotiche pesanti e con quest'ultimo punto termina l'analisi della patch note 1.1.4. Personalmente mi ritengo soddisfatto se non per qualche piccolo punto sono tutti i cambiamenti che approvo. E voi cosa ne pensate? Vi invito a farmelo sapere con un commento ben argomentato qui sotto. Dunque ragazzi da parte mia è tutto, come al solito vi ringrazio per la vostra attenzione, spero il video sia stato di vostro interesse e vostro gradimento, vi invito a lasciarmi il vostro feedback e noi ci sentiamo alla prossima. Ciao a tutti ragazzi!